Torniamo a parlare di Superbike nel mio canale sportivo perché c'è una notizia di mercato incredibile e clamorosa ed è il ritorno di Marco Melandri nella massima serie dopo un anno di stop Marco Melandri è stato chiamato come pilota sostituto di Leon Camier nel team Ducati Barney dunque per uno dei piloti che numericamente è stato uno di quelli più di successo di questa categoria per quanto riguarda i colori italiani avremo un ritorno dopo appunto il ritiro annunciato nel 2019 dopo l'infelice parentesi nel team Yamaha GRT è una notizia che lascia un po' di stucco devo essere onesto me in primis da tifuso della Ducati però in questo video cerchiamo di analizzare quello che è successo e darvi anche le mie opinioni in merito da signor nessuno ma comunque appassionato di Superbike dunque partiamo da quello che è l'ufficialità che è arrivata nella giornata di ieri sera per questo ho aspettato a fare questo video Marco Melandri ha annunciato il ritorno alle corse per sostituire l'infortunato Leon Camier dove andrà a correre Marco Melandri nel team appunto che era di Camier prima dello stop per il lockdown qui lo vediamo Marco Melandri raffigurato nel nuovo team che è la Ducati Team Barney che di fatto è una Ducati clienti ma con forniture ufficiali e dunque potrebbe essere un certo punto di vista un rilancio per Marco Melandri che l'ultima volta che ha corso sulla Ducati aveva vinto delle gare a inizio campionato contro Jonathan Ray poi si era spento in un campionato del 2018 stato scaricato tra virgolette dalla Ducati in favore di Alvaro Bautista che poi è andato in onda l'anno dopo Marco Melandri fece una stagione del 2019 in Yamaha clienti ma non fece assolutamente bene questo è un'occasione per Melandri da un certo punto di vista di rimettersi in mostra di ritornare a correre a 37 anni al posto dell'infortunato Leon Camier che ha provato a fare dei test prima della ripresa ma non è riuscito a risolvere degli infortuni molto lunghi il pilota britannico per quanto talentoso ha dovuto abdicare e dunque Melandri è il nuovo pilota della Ducati Team Barney è un'odizia che lascia un pochino perplesso nel senso che da un certo punto di vista io da tifoso Ducati sono contento di rivedere comunque un pilota di palmaresse un pilota che che se ne dica nella superbike è stato molto competitivo soprattutto negli ultimi anni aveva la moto per vincere purtroppo contro Ray difficilmente si riesce a vincere con questo pacchetto ovvero Ray Kawasaki peccato per l'anno del 2018 che è stato un anno in discesa e anche per il 2019 con una moto completamente diversa dallo stile di Marco Melandri che gli ha fatto fare un campionato inferiore rispetto alle aspettative sarà un incontro da vedere i risultati appunto del Team Barney con Melandri perché? Perché con Camier non c'è stato mai modo di correre Camier era presente in Australia ma era già infortunato e quindi il Team Barney non ha corso con Melandri che è un pilota che appunto ha fatto un anno di stop per quanto talentuoso ci sarà secondo me da fare tanto lavoro e onestamente per quanto Melandri abbia delle ambizioni onestamente la vedo difficile che possa competere quantomeno per il podio mi aspetto secondo me visto anche il potenziale del Team delle top 10 con costanza però non mi aspetto al momento niente di più sentivo anche sui social che l'arrivo di Melandri avrebbe tarpato le ali a qualche giovane italiano che sta correndo nei campionati inferiori onestamente però da un certo punto di vista è una scelta che per quanto sia discutibile per certi punti di vista per altri è abbastanza corretta perché comunque puntare su giovani del Civi in rampa di lancio probabilmente non è la scelta più corretta per un team che comunque ha avuto piloti molto forti come Xavi4S come appunto lo stesso Melandri che comunque sono piloti che la moto la sanno far andare pur essendo comunque un team clienti che in teoria non dovrebbe avere velleità di vittoria contro i team ufficiali vedi per esempio Ducati Aruba, vedi per esempio Kawasaki, vedi per esempio Yamaha ufficiale è un grande punto di domanda nel senso che Melandri è sempre stato un perfezionista nel lavoro è sempre stato uno che voleva la moto come voleva lui secondo il suo stile di guida giustamente come pilota e questo spero non vada a influire sul lavoro che il team Barney dovrà fare è una scelta che mi vede diciamo un po' nel mezzo nel senso che non la provo totalmente perché comunque puntare su un pilota che si è effettivamente ritratato dalle corse a scapito magari di piloti più talentuosi tra virgolette o comunque in rampa di lancio da un certo punto di vista è uno svantaggio e per il futuro non è una scelta incredibile sul presente evidentemente è stata fatta una scelta sicura su un pilota che è esperto in superbike che dà delle garanzie e che magari con una moto clienti potrebbe anche arrivare a podio va bene che nella prima gara in Australia in superbike abbiamo visto tantissimo equilibrio ma di fatto erano le moto ufficiali che se la giocavano le moto clienti hanno fatto leggermente più fatica ed è per questo che obiettivamente secondo me oltre una top 10 per il momento secondo me Marco Melandri non può puntare e lo dico da tifoso Ducati tifoso Ducati che spera che la scuderia di Borgo Manigale possa tornare a vincere in superbike ha più risorse ovviamente col team ufficiale sembra che Redding sia in forma con questa nuova Ducati l'incognita appunto su questa nuova Ducati c'è anche per Marco Melandri perché Marco Melandri si è trovato non benissimo per usare un eufemismo con l'ultima versione della Ducati bicilindrica e qui invece ha una moto totalmente diversa con il V4 che quindi potrebbe cambiare anche lo stile di guida è un grande punto di domanda c'è molta curiosità lo vedremo il 1 e il 2 agosto a Jerez voi tifosi Ducati che siete appassati di superbike come me aspetto ovviamente le vostre opinioni non solo su Marco Melandri ma anche su un'altra notizia di mercato interessante che riguarda sempre l'Italia della superbike ma riguarda il team Honda il team Honda Altea che è il team clienti della scuderia che è tornata a pieno organico quest'anno con gli schieramenti ufficiali sostituirà Jordi Torres con un altro italiano Lorenzo Gabellini pilota romagnolo che fa l'esordio assoluto nel moto mondiale scusatemi nel campionato mondiale superbike per quanto riguarda Gabellini appunto è un pilota che ha fatto qualche comparsata nel campionato super sport e anche lui viene dal CIV che sostituisce appunto lo spagnolo Jordi Torres che correrà il campionato moto E e cambierà anche il campionato spagnolo superbike che ovviamente è incompatibile con il campionato mondiale superbike dunque per un pilota molto talentuoso che è Jordi Torres secondo me si va a scegliere un pilota giovane futuribile in ottica appunto per i campionati futuri ed è una scelta secondo me interessante dal momento che in questo caso l'Onda Altea non ha velleità di vittoria neanche di top 10 secondo me sarà un miracolo se si potrà arrivare a punti con una certa costanza e dunque avremo 4 italiani in campionato per quanto riguarda la categoria regina la superbike ovvero Melandri Rinaldi Caricasulo e Gabellini facendo il riassunto di questo campionato mondiale superbike andiamo a vedere per ultima cosa il calendario perché ovviamente è stato anche annunciato il calendario nuovo ma facciamo un riassunto perché giustamente la superbike che è l'unica categoria motoristica insieme a Moto2 e Moto3 che ha già corso prima del lockdown e arriviamo a tre gare australiane veramente incredibili e clamorose con appunto vittoria decisa in volata con tre vincitori diversi nelle prime tre competizioni e dunque spero che anche post lockdown l'equilibrio di questo campionato sia ancora vivo e ancora importante a differenza della MotoGP dove c'è un Marquez Uberalless che domina praticamente in lungo e in largo e visto anche il calendario nuovo non escludo che lo spagnolo possa vincere il campionato del mondo 2020 a mani basse anche in questo caso c'è un netto favorito che è Jonathan Ray ma attenzione perché a differenza della MotoGP ed è il motivo per cui io preferisco la superbike al moto mondiale c'è tanto equilibrio tra tante case tra tanti piloti che sono talentuosi allo stesso livello il campione è ancora Jonathan Ray che è il uomo da battere e vedremo se nelle gare che rimarranno da qui a ottobre il nord irlandese sarà spodestato oppure no vi ricordo che a oggi il leader del mondiale è Alex Lowes con tre punti di vantaggio sui diretti concorrenti come si sviluppa il calendario lo vediamo qui con Wikipedia inglese sarà di fatto un mega campionato spagnolo praticamente un campionato iberico con escursioni in Francia con ulteriori due round da confermare in Argentina e Italia di fatto lo possiamo chiamare un Chev Superbike con appunto l'eccezione di Portogallo e Francia come extra tappe spagnole si parte l'1 e il 2 agosto a Jerez della Frontera la settimana dopo si andrà a Portimao per il circuito che dovrebbe ospitare anche il campionato di Formula 1 quest'anno poi doppio appuntamento il 29 e il 30 agosto ad Aragon al Motorland come gara 1 e 5 e 6 settembre come gara 2 si andrà poi il 19 e 20 settembre a Barcellona per Catalogna e si chiuderà i round quantomeno certi con il circuito di Manicure in Francia il 3 e 4 ottobre gli ultimi due round possibili ovvero Argentina e Italia quindi San Juan e Italia Misano sono da confermare per questo motivo tutte le state giornalistiche riportano che il campionato mondiale del Superbike sarà di 6 round ancora da disputare con tra gara ciascuno per la Superbike e una ciascuno per la Supersport e la Supersport 300 che faranno da supporto a questa categoria molto interessante fatemi dunque sapere cosa ne pensate per quanto riguarda la decisione di Melania di tornare a correre nel team Ducati ci vediamo al prossimo Racing Pots che vi ricordo per motivi personali sarà lunedì per quanto riguarda la Formula 1 e addirittura martedì per quanto riguarda la MotoGP nota importante se dovesse esserci un post gara contemporaneo come appunto in questo caso tra Formula 1 Superbike e MotoGP Formula 1 e Superbike hanno ovviamente la presidenza rispetto al moto mondiale e dunque potrebbe succedere ovviamente che ci saranno post gara non del giorno dopo ma anche di 2-3 giorni dopo nel frattempo vi saluto vi do appuntamento al prossimo video che sarà lunedì il saluto da parte di e dunque ci vediamo per il post gara del Gran Premio di Formula 1 di Ungheria Grazie a tutti